Bella Siocci! Qua è di nuovo il vostro Sioc! Sioc è qui, sì, ma non su quel gioco della Tata Volta, no, 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 non andava più bene, non avevo tempo di allenarmi, quindi oggi avevo intenzione in realtà prima di tutto di fare un mazzo esplosivo su Arson, è per esplosivo, veramente esplosivo, cioè, boom! Così, però poi, poi, io so che è uscita la rissa, non so in realtà se è uscita oggi, credo di sì, però la rissa dovrebbe essere qualcosa di carino, se riesco a leggere Ragnaros è in cerca del mazzo più forte, eh, Ragnaros è in tenda di esplosivi, quindi mi sta simpatico, eh, iniziamo questa, ho sbagliato a cliccare, iniziamo questa rissa e vediamo un po' com'è, eh, mamma mia, mamma mia quanta attesa ho, ma cos'è il giocatore è molto lento, FK, oi, oi, chi è? Mi sembra l'uomo nero, ma chi in che senso nero? No, non si fanno commenti del genere, cattivi, vittoria è un morte, eh, eh, e anche io preferisco la vittoria, che cos'ho di bello? Ho tre carte se non sbaglio, l'esplosione d'un goro fa un po' caccare, cioè in realtà è figa, però no, lui è figo, però ai primi turni no, è stessa cosa per lui, e andiamo su, continua, perché sei, ah, intanto avete visto, quel maledetto Kois non è riuscito a fare la cosa bella per sostenersi, infatti si è dovuto mettere sotto nel video di Minecraft, eh, vedete, se questa cosa vi fa felici, scrivete hashtag sioc e fego, eh, e scrivete anche che Kois spuzza, sempre con l'hashtag però, perché così noi facciamo impazzire un po', ah, 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 allora, allora, che carte ho, che carte ho, eh, robot, un coso, armatura, eh, ma taitate l'avevo già messo nel mazzo e passa un po', ma cosa fai tu, niente fai, passa anche tu, quindi, oh, grazie, grazie, noi giochiamo questo, no, no, scherzavo, non si fa, questa carta è pericolosa, ci mettiamo armatura e passiamo, lo salutiamo, ma salutiamolo, salve, eh, accendete le pire, sì, bruciamolo, o bruciamo gli esplosivi, vedete, deve uscire un boom in questo video, un boom, boom, è uscito un boom? Eh, l'ho fatto io, l'ho fatto io, ah, ah, allora, adesso, cosa si fa? Eh, è uscito il pirata con carica, a me sono simpatici i pirati, ma al momento no, questo cosa fa? Non riesco a leggere, ah, bello, e allora lo mettiamo, ecco, ah, ah, e poi cosa fai? Adesso non puoi più fare niente, niente fai, eh, vabbè, ah, 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 mi fa, sì, è stupido, è stupido come una capanna, oh no, non avevo capito, vai, forse sono un po' più stupido io, però va bene, si occa sempre una soluzione, in questo caso no, però ce l'ha, ecco, ah, e adesso lo sgrantiamo, perché se no muore, ah, questa mossa non se l'aspettava, ah, ah, avrei preferito il mazzo esplosivo, però, ah, si è fatto, ah, si è fatto tre danni in faccia, e io ho tre danni in campo, far veniremo fuori la sua provocazione e gli faremo anche un da, questa non me l'aspettavo, secondo me è imbrogliato, sì, sì, se l'è data in mano quella carta, l'ho visto, ce l'aveva, ce l'aveva nella manica pronta, mamma mia, eh, giochiamo ora lì, la rissa, no, no, non giochiamo rissa, non giochiamo rissa, giochiamo un altro di questi, ecco, e adesso cosa fai, non hai più l'arma, hai solo servitori, eh, lo so attaccherai con i servitori, dico io, certo che comunque questi occhiali non mi vanno bene, eh, cioè questi fari sono fighi, fighi, anche grisca nel figo, però i miei occhiali sono sensibili, mi accecano, eh, Vorete vedere i miei occhi? Non potete, sono segreti Finalmente fa un turno senza fare nulla Ok, si fa due di armatura Qualcosa ha fatto Ma adesso sistemiamo tutto Quest'arma è figa Dico io Però ci faremo la bua a usarla Ma noi lo facciamo Perché siamo folli Ecco, un, dos, tres, quattro Yeah Usiamo delle meme uscite di moda La dub Chi è che fa più la dub adesso? Sono Seahawk Quando vuole farla però Quindi Come on Come on Un altro Ma non ti stanchi di evocare quei cosi? Mamma mia, adesso ti evoco Il pirata popò No, il pirata popò ha quattro d'attacco Non faccio nulla Pirata popò Però è l'unica cosa buona E vabbè, sentite Non sarà la mossa migliore Ma evochiamo il pirata popò Popò Allora Mamma mia ragazzi Ma siamo sicuri che è indegno di avere questo qua Il giocatore FK Il giocatore è molto lento Non può essere indegno di avversario Guardate quanto è lento E adesso Veloce Mamma mia Ancora poco Qua Si Compia 50 anni Eh ma glielo Dite a voi Di sbrigare Oh là Perché hai giocato quell'arma Amico Ti fai l'armatura E basta Mamma mia Adesso Ti do una di quelle Mazzucate Che ricorderai Per tutta la vita Lui si mette quell'arma Noi tacchiamo E non facciamo nulla Ci mettiamo anche Uno di armatura E basta Eh Mica scemi Quanta vita hanno Riesco a vedere due Avevamo fatto bene Perché se no Morivano entrambi i servitori Adesso Noi dovremmo cercare Di evocare un servitore alla volta Eh Ah Ma glielo Diamo una Shagseilento Sto qua Scrivetemi nei commenti Asha che sei lento Sei lento Veloce Eh Ma io ho un problema Ma io non me l'aspettavo E la sua arma dura un po' Un po' tanto adesso Cosa evocchiamo? Lui ha due di armatura Io ho un tirappugni Che non mi ricordo che faceva Mi pare dava potenziamento Dopo che il mio era attaccato Eh Eh Vedi Mi ricordo un po' Sì o che si ricorda E noi evocchiamo lui Lui è Oh vai no Posso fare altro A parte attaccare No E allora passiamo Perché Ecco Lui Mi è quasi simpatico Perché i robot Esplodono a un certo punto Però Non è esplosivo Vero Cioè Eh Esplosivi veri Si sentono Cosa pensate? Ehi Più 2 più 2 Servitori con provocazione Questa cosa Non me l'aspettavo Questa cosa proprio Non me l'aspettavo Io non vedo nulla E Proviamo a fare una rissa Ma lanciamo una rissa 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 Vincere il mio Ma ovviamente vincere sul forte Ehi Mamma mia Proprio Ovvio E basta Passiamo Purtroppo ho avuto fortuna Questo gioco È di fortuna e sfortuna Eh Mamma mia Se non è così Ditemi voi Se non è così Sempre fortuna e sfortuna Ah La mia testa Ok sono a posto Sono a posto Sì ok vivo E Sam rimarrà vivo Allora Cosa ha fatto? Cos'è? Cos'è? Scusami Ma Ha già 10 Ah Potremmo Essere Nei guai Potremmo però Potremmo Sì Effettivamente Siamo un po' Nei casini Siamo un po' Nei casini Siamo un po' Nei casini Vai Sì Qua Ci ho caperso E Lo che ha perso E vuole fare Boom Però adesso Basta rissa Perché mi ha annoiato Eh La rissa qua Mi ha annoiato E quindi noi facciamo Il mazzo esplosivo Come avevo programmato Perché voglio far esplodere qualcuno Eh Allora Signori Noi qua andiamo a comporre Il mazzo Boom 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 Eh E come si fa il mazzo Boom 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 Adesso ve lo sto mostrando Eh C'è il primo piano del mazzo Così vedete Ci mettiamo questi che sono belli Questa è molto value Come si dice in giro Eh La value importante È avere value Poi cosa ci mettiamo Esecuzione Ma sì Mettiamoci un po' Gli esecuzioni Ci mettiamo lui Che è simpatico No scherzavo Non è troppo sul banco Mettiamo lui Contro quelli che vogliono giocare veloci Così gli diamo fastidio Mettiamo lui Che è forte a turni avanzati Le Pensano E splodono Dynamatic Che fa delle esplosioni Niente male La rissa Che come avete visto prima Non è totalmente forte Acceleratore Che è feo Che è usato bene Dottor boom Ovviamente Dottor boom È il mio amico preferito Infanzia E invece manca il dopo a bombe boom Quando non sapeva più cosa fare Andava sopra una bomba Per esplodere Ed era molto bravo Devo dire Molto molto bravo Ma naturalmente C'è anche la bomba La di Newtonite Che è molto brava Nel suo boom E mi raccomando Andiamo a mettere anche Lelec Perché Lelec Non vuole fare boom Però vuole aiutarli a fare boom Anche quello È un fattore molto Molto Non molto importante Poi un altro boom Che si può fare È questo All'avversario Quando vede che abbiamo pochi canti Dopo boom Un boom da parte di Zilliax E un altro boom Fatto dal suo collega Il suo collega si chiama Tagliotto E Volete sapere un'altra cosa? Secondo me Servono altri robot Quindi a malincuole Il devastatore Lo rendiamo Znip E ci mettiamo Quello che non volevo mettere prima Perché mi era dispiaciuto No non è vero Il mazzo Boom 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 È pronto E vi facciamo far boom È certo che vi facciamo far boom È il nostro compito È È Where are you? Boom boom Bar boom Bah Andiamo E mi raccomando Ti fate per il Seahawk Che se no Seahawk non ti fate per voi Credo Yoshi Fate il tipo Stavolta Chi è il Mulan O la Mulan Chi ci affronta? Un murlo In poltiglia O in bottiglia Non ho letto bene Vedo male So che sei conciamano E martelfatto Martelfatto non c'è a casa mia Quindi hai perso Eh Chi ha questo? Chi ha questo? No questo ce lo teniamo Ce lo teniamo Sì 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 Ce lo teniamo Ce lo teniamo Ehi Bra Figon figon Bella mano Bella mano Vedo tipo 12 carte Però effettivamente Se controllo con un occhio Sono 4 E adesso Devevo una quinta Oh no No un altro molto lento No Sbrigati Picciati Bravo Quattro money No è una Scherzavo Quindi Oggi Vai bravo Bravo Fa fare a me Che so fare YouTube Guarda il turno bello Ta Ah Adesso Ah sì O che non piace Non ho capito Non ho Non ho capito Non ho capito Però noi Sapete cosa Ci mettiamo Lui O andiamo con calma Andiamo con calma Andiamo con calma Non dovrebbe essere Troppo veloce L'amico Se accelera Andiamo anche noi Però non dovrebbe Secondo me Gioca un totem E invece no Ecco Abbiamo sbagliato Forse Beh Allora Sapete cosa Sapete cosa Direi che possiamo usare La nostra moneta Per far fuori lui Perché ho un po' paura Quindi cosa facciamo Facciamo Scudo saldo Così L'abbiamo Sbagliato Questo è bello Questo è bello Averlo ora Poi facciamo una moneta E diciamo Ciao ciao A lui Ecco perché Ancora poco Non ci fa mille sovraccarichi E Eh E si fa così A casa mia Si gioca così Poi non so a casa vostra Se giocate così Anche a casa vostra Ditemelo Che sarò felice E' pazzo Amici E' pazzo Ci da value Ci da value Incredibili qua Ci mettiamo un elec No elec Inutile Ora Io direi Che possiamo mettere lui E Fare così Ecco Tac Adesso Adesso Quando attacca Ci da monete Per giocare meglio Vediamo un po' cosa fa Però si deve spicciare La tempesta Oh Sio Potrebbe essere nato un problema E' un altro scudato Noi lanciamo lui In buona fede Vai Dai Dynomatic Bravo Mulo Inutile E adesso cosa annassi Mi farò un botto di danni Quante carte abbiamo Non ho controllato Sette Almeno in quello Amico Basta Hai troppo culo Cos'è Eh vabbò Se vuoi fare altro Aia A Moneta Aia Aia E aia Eh troppo Aia qua Un altro Elec E io non so cosa fare Sio Che faccio Direi che potrei fare Moneta Altra moneta Dottor Boom E colpo di scudo Sul 3-6 Direi che è una mossa Più che onesta Voi che dì Eh Siok sa giocare bene Abbiamo anche un danno A tutti Bene Non so ci farà male Ma noi abbiamo questa Da poter usare Ho anche fatto la rima Papà pera Eh Aia Ah Moneta Aia Aia Cos'è Perché hai un Murloc Signori Non so voi Ma io Faccio così Eh Due zecchette di questa Non c'è A casa mia Poi a casa vostra Non so A casa mia Io faccio così Ecco Mi è rimasto un 4-1 Che vedremo di eliminare poi In qualche modo Sono desto E adesso Ci farà tanta bua Però noi possiamo farci Tante armature Al prossimo turno Quindi non ci uccidere Vezzi Si è ascolato tutto il tempo Ma sei un Murloc O sai cosa Non capisco Aia Siori Io direi Armaturonzo Altro armaturonzo Appena ora arriva la bomba però E noi ci mettiamo Un Elec Così Ci mettiamo un po' di value in campo Che se no È grave Ecco abbiamo Abbiamo il potere Lo è giusto Teoricamente Se non fa stronzate Amico La smetti Ciao Guardate È tutto perfetto Lui Lui deve Stravincere No Non è vero Deve morire E abbiamo un po' di probabilità Che rimanga Uno 0-2 in campo Are you ready for the rumble Rumble Che non ci vada bene stavolta Prima è andata male Oh No Non ci voglio credere Che Scolato Quanti danni ci fa Abbiamo Undici di vita Ciao Siamo un po' Nella merda Lo sapete? Forse lo sapevate Però teoricamente Basta State Fermo Fermo Cosa faccio io ora? Un'altra rumble? Allora Sì Intanto Siamo calmi E ci evocchiamo Un bel assemblaggio mega Così vediamo un po' Qua ho Questo stupo Ah ma è vero Il dottor boom Ha la passiva figa È Ragazzi La passiva figa È figa Signori Noi facciamo così Evocchiamo lui Che Attacca lui Sì No Attacca lui Poi usiamo il potere eroe Su di lui E mettiamo lui Che attacca lui E Era Easy Toh Perfetto Abbiamo ribaltato Yeah Cosa fai ora amico? Mettiti a piangere Ti ho appena distrutto la board Cosa fa? Ah Ah Non era proprio quello che volevo Cosa fa? Cosa fa?